Si è svolta ieri mattina la cerimonia organizzata in occasione del centesimo anniversario del giorno dell'unità nazionale giornata delle forze armate. A presenziare numerose autorità civili, militari e religiose che prima hanno partecipato alla funzione religiosa presso la chiesa Santa Maria della Speranza e poi hanno deposto una corona dinnanzi al monumento dedicato ai caduti in piazza della Repubblica. Il corteo successivamente si è recato in piazza Amendola dove è stata deposta una ghirlanda davanti al monumento dedicato ai caduti del mare. La festa delle forze armate è stata anche la prima uscita ufficiale del neocomandante della Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia, il Maggiore Vitantonio Sisto.